2.700 inoculazioni nelle ultime 24 ore. È record per il piccolo Molise che viaggia spedito sulle terze dosi, ma riesce a guadagnare terreno anche sulle prime somministrazioni. Tanti indecisi, circa 1.000, negli ultimi 5 giorni, si sono recati presso i centri vaccinali. Continua la nostra campagna vaccinale che ci vede ai primi posti in Italia, sia per prime dosi, per seconde dosi, che per terze dosi. Siamo molto contenti e devo ringraziare tutto il personale perché anche nella giornata dell'8 dicembre, una giornata festiva, abbiamo fatto più di 2.100 vaccini. Inoltre voglio segnalare che moltissime persone che erano recalcitranti si stanno sottoponendo alla prima vaccinazione. Diciamo che negli ultimi 5 giorni quasi 1.000 persone si sono convinte a vaccinarsi. Questo è molto importante perché, dispiace dirlo, ma se abbiamo 11 ricoverati e 10 sono non vaccinati, vuol dire che è dimostrato proprio per fatti l'importanza del vaccino. Quindi io rivolgo nuovamente l'appello a chi ancora non l'ha fatto a sottoporsi alla vaccinazione. E dal 16 dicembre si potrà partire con la vaccinazione anti-covid dei bambini della fascia d'età 5-11 anni a stabilirlo una circolare del Ministero della Salute firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza. Il Molise non vuole farsi trovare impreparato nella cabina di regia di oggi. Asrem, commissario e le altre componenti hanno messo a punto i dettagli per implementare la campagna vaccinale. Prossimamente sarà riaperto, seppur per giornate singole, l'Hub di Boiano, mentre non è escluso che possa riattivarsi la collaborazione con l'Unimol. Siamo sempre pronti a implementare le attività. Credo anche su Boiano avremo qualche ulteriore giornata riaprendo l'Hub vaccinale, anche su Boiano che è un centro comunque abbastanza densamente popolato per gli standard molisani. Abbiamo anche una disponibilità eventuale della Unimol con la quale siamo sempre in contatto e per la quale li ringraziamo sempre perché sono sempre al nostro fianco su queste iniziative.